Zombie Apocalypse Mamma mamma tra poco esce il Gran Cavaliere Mi dai soldi per shopparlo su Crash Noia? Non esiste che ti dè soldi cara Posso lasciare a decolpirmi adesso Hai visto mamma? Mi avevo chiesto i soldi per shoppare su Crash Noia Ma non esiste che ti diamo i soldi per shoppare Posso un asteroide un po' più infuocato di questo colpirmi se...